Arriva a quasi due anni di distanza l'avviso di chiusura indagini per i 19 indagati per quanto accadde all'interno dell'archivio di Stato di Arezzo nel settembre 2018. Persero la vita due dipendenti, Filippo Bagni e Piero Bruni, a causa del malfunzionamento del sistema di allarme. Piero e Filippo vennero uccisi dal gas Argon, sprigionatosi dall'impianto antincendio. I due si erano diretti, dopo che era scattato l'allarme, verso i locali che custodiscono i documenti e furono ritrovati ormai esanimi sulle scale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alla base ci sarebbero gli errori di progettazione e manutenzione dell'impianto di allarme antincendio. Tra i 19 accusati di omicidio colposo ci sono infatti anche i tecnici addetti al controllo dell'impianto di allarme e i dirigenti della società a cui erano affidate le verifiche di sicurezza e un dirigente dei vigili del fuoco. Tra gli accusati anche il direttore e l'ex direttore dell'archivio Claudio Saviotti, difeso dallo studio De Fraia. Lui è molto sinceramente, come l'ho sentito io, molto addolorato per la perdita ovviamente anche a distanza di tempo dei due ragazzi dell'archivio. Sconvolto dalla situazione ma soprattutto anche sconvolto dall'imputazione che le è stata fatta perché lui ovviamente in coscienza si sente di aver fatto tutto quello che era stato a lui imposto e comunque di aver adempiuto puntualmente a tutte le normative. Tutto quello che lui ha fatto o che non ha fatto era sempre stato fatto sulla base di una comunicazione, richiesta e autorizzazione da parte degli uffici ministeriali che si avrintendevano a questo. Io penso pertanto che certamente il fatto che è anche venuto molto grave, veramente siamo vicini anche alle famiglie a cui è successo questo, ma non per questo bisogna pensare che ci siano tutti questi responsabili che vanno dai responsabili dell'ufficio fino ad arrivare fino ai vigili del fuoco in modo così elevato.